...con Hollande Robert Bosch! Buon gusto di essere, con De Bosch, con De Hollande! Per stare in Italia! E' vera! Consegnavo il premio, poi ascoltiamo l'imno holandese del vincitore! Vai, vai! E' una ragazza che non ha mai sbagliato niente dalla prova luna! Quindi qui, per la seconda posizione, di Germania, Janine Bezzi! Eccola qua, eccola qua, eccola qua! Rosalino! Conta posizione! Sono arrivato, no, primo anno, fa parte della Puglia olandese! Si aggiunga la Spamalini italiana, il podio è tutto italiano! Con Paolo, ai vari! E Paolo D'Ariano, ultimo applauso! Giornata indimentabile per il cuore lente! Questo complimento è dopo, presto! E' una buona parte! E' una buona parte! E' una buona parte! E' un'altra parte, che è davvero molto intensa per la battaglia, Per la musica e di Loda, che arriva da Albino, da Bergamo, dalla Varseliana, con la vettura stilosa, heavy-heavy, Steven Cavagna! Grazie a tutti